Bella iniziativa per carnevale organizzata dal gruppo facebook te lo regalo se vieni a prenderlo nato ad agropoli nel mese di dicembre da un'idea di daniela e teresa orrico ma che era diffusa in italia da anni con vari gruppi già creati il gruppo ha come finalità quella di evitare lo spreco tramite il meccanismo del dono e ognuna delle persone iscritte può pubblicare sulla pagina oggetti come elettrodomestici divani materassi abbigliamento e giocattoli che non e invece di disfarsene li può regalare a chi mostra interesse nel riceverli dopo aver riscontrato ottimi pareri fra gli agropolesi il gruppo per carnevale organizza la sua prima iniziativa per domenica 23 febbraio alle ore 11 e 30 infatti gli amministratori della pagina hanno organizzato un incontro in maschera per i bambini che si terrà in piazza della repubblica e a cui potranno partecipare anche i genitori i bambini in costume di carnevale ciascuno con un regalo incartato da donare si disporranno in cerchio con in mano il dono e inizieranno da fermi a intonare la canzone giro giro tondo facendosi passare i propri regali tra le mani il regalo potrà essere un peluche un puzzle una palla un libro per bambini al termine della canzoncina il pacco che si ritroveranno in mano sarà il proprio e potranno scartarlo un'iniziativa importante per far divertire i bambini e per fargli vivere un bel momento di aggregazione ricevendo anche dei regali